E come avrete letto e sentito sui giornali e nei telegiornali, la settimana scorsa è stato colpito dal virus dell'influenza aviaria un allevamento di galline ovaiole di ostellato che conta circa 128 mila animali. L'azienda dal 13 di agosto, quando si è manifestato il sospetto della malattia, è stata immediatamente isolata e sono state predisposte da parte dell'azienda USL di Ferrara e dai servizi veterinari della regione Emilia-Romagna, le operazioni di abbattimento che sono iniziate giovedì 15 agosto e sono proseguite per circa sette giorni. Il personale dipendente addetto all'impianto e i loro familiari sono stati fin da subito sottoposti a sorveglianza sanitaria. Verranno ritirate tutte le uova prodotte dall'allevamento dal 20 di luglio. Si tratta di una misura a scopo preventivo. Secondo la vigente normativa, l'azienda interessata, che non ha contatti con altri allevamenti rurali della zona, verrà indennizzata per i danni subiti in conseguenza del focolaio. La regione ha emanato un'ordinanza per l'attuazione di misure straordinarie prevista dalla normativa sanitaria europea e nazionale per il contenimento dell'infezione e il monitoraggio degli allevamenti che prevedono tra l'altro l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza dell'area colpita. È stato disposto il blocco delle movimentazioni di tutti gli allevamenti nel raggio di 10 chilometri, il censimento di tutte le aziende e degli animali presenti, prelievi e accertamenti sierologici da parte dei veterinari, controlli straordinari su tutto il territorio regionale e la sospensione di fiere e mercati di animali di specie vulnerabili. Se ci saranno altre notizie in merito ve le comunicheremo, naturalmente intanto vi invitiamo come sempre a consultare sul nostro sito www.agrestetv.it la voce news, oppure in questo caso a visitare anche il sito della regione Emilia Romagna www.regione.emilia-romagna.it